Continua la discesa alla curva dell'epidemia da coronavirus in Puglia. In base alle informazioni fornite dalla regione, oggi, giovedì 21 maggio, sono stati accertati sette casi di positività al virus, mentre i tamponi effettuati sono stati 1694. Il bollettino odierno segnala nuovi malati in sole tre province, Bari con altri quattro infetti, Foggia più uno e Brindisi più due, che portano a 4.413 il totale dei contagi pugliesi, tenendo conto di attualmente positivi, guariti e deceduti. Non si contano ulteriori infetti nei territori di Lecce, Taranto e nella Bat, dove addirittura si abbassa il numero dei casi complessivi, in quanto uno dei malati registrati nei giorni scorsi è stato eliminato dal database della regione, riportando a 382 i contagi totali nella sesta provincia. Per la terza volta, da quando ha avuto inizio l'emergenza, non si segnalano ulteriori vittime della pandemia, che restano in tutto 479. Sempre più in calo il dato riferito ai pugliesi, al momento ancora positivi, che secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile Nazionale, scendono a quota 1.839, ieri erano 1.902. Degli attuali malati, 236 sono ricoverati con sintomi, 20 si trovano in terapia intensiva, mentre tutti gli altri sono sottoposti ad isolamento domiciliare. In salita, al contrario, il numero dei pazienti che hanno vinto la loro battaglia contro il Covid-19, che oggi sono in tutto 2.096. 69 guariti in più nelle ultime 24 ore.